Oggi presentiamo un libro secondo me interessantissimo che si intitola Superfood. Sostanzialmente cerchiamo di capire se si tratta semplicemente di una moda o se davvero i superfood esistono e se possono aiutarci ad allungare la vita, a vivere meglio, a stare meglio. L'autore del libro è il professor Sanguini che è un cardiologo di fama e che ha deciso di fare una vera sperimentazione su alcuni alimenti e credo che sia utile veramente sapere a questo punto se si tratta appunto di semplice moda o di medicina che può aiutare nella prevenzione e nella vita.